Adesso, completa nascondiglio pirata la bruta, ok, adesso ce la riscattiamo, perché l'abbiamo fatta, oh, mamma quanta roba qua dentro, via, nel frattempo abbiamo livellato un po' Ok Questa signora dei pirati si chiamava Lauga, è una desertrice cabal, ma non saprei dirti da quale parte, è un'impresa pericolosa, queste tale sono frequentate da molti individui spiacevoli A proposito, Lauga nota per la sua brutalità, ti proporrei di darle un assaggio della tua Ok, sarà fatto Come per cui sia, in due secondi Ciao ragazzi, siamo qui Vediamo stante la solare, in realtà Guarda sta build Sciogli come niente questi L'ultima build è per far pulizia Ove i gruzzoli ormai a me non servono più tanto Ok Questa Lanciamo Oh mio dio Sono quasi quasi malissimo Non è che sia tutto a lungo raggio No Oh, si pestoni Li vogliamo smettere di far Tutti Nessuna pietà No mercy Non è solo una sua vita Oh mio dio Un equipaggio senza guida è inutile Togliela di mezzo Sentila Come si irrita il ragno Ok Ah, lo sovraccarica No E fa come Come amante del rischio Iguale Ok, lo ricarica E lo fa diventare imbruttita Cioè, quest'arma Imbruttisce un botto Ci sta, ci sta Non è male Questo tempo sente bella sta colonna Che si sente Sotto fondo E non sto scherzando Mi piacciono davvero le Le musiche Di Di Destiny Ci mettono in sotto fondo Ok 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 E Chill Basta Direi che è ora Che tu Vada via Mi saluto Oh Proprio Anticaglie Quindi le tracce Conducono qui Bene Sarà meglio Tenere queste reliquie Lontano Dalle grinfie Di Aramis Prima reliquia Non credi Ok Sarebbe una magnifica Giunta alla mia Collezione Qualsiasi cosa sia Ma immagino Che andrà a Miserax E a quella Ficcanaso Di sua figlia Vero Per il bene Degli Lixni Ma l'Aug Non sarà L'unica Alla ricerca Di reliquie Come questa Troviamole Noi Prima che lo faccia Aramis E già Quanto bella Starman Piace Molto 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 Bella Ok Quindi Qui abbiamo Finito Alla ricerca Alla ricerca Grazie a tutti.